Meteo Italia, Giuliacci avverte e dal 13 novembre arriverà. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Inoltre, vorrei esprimere la nostra gratitudine al colonnello Giuliacci per tenervi informati sulle condizioni meteorologiche attuali. Nonostante il maltempo che sembra persistere ininterrottamente sull'Italia, tra un'onda di perturbazioni atlantiche e l'altra, c'è una nota positiva che si fa strada attraverso le nuvole. Stiamo per essere raggiunti da un flusso d'aria calda proveniente dall'alta pressione, proprio come aveva previsto il nostro esperto meteorologo, il colonnello Giuliacci. Questo segna la fine di una fase caratterizzata da piogge atlantiche che hanno tenuto l'Italia in scacco nelle ultime due settimane. Nella prima fase, che si estende fino a domenica 12 novembre, due perturbazioni atlantiche raggiungeranno la nostra penisola. In breve, potremo aspettarci piogge diffuse e fenomeni meteorologici intensi, in particolare nelle regioni tirreniche, con la Campania che farà da protagonista. Inoltre, questa perturbazione porterà deboli nevicate sopra i mille metri lungo l'intero arco alpino. La seconda fase, dal 13 al 16 novembre, ci porterà un cambiamento di rotta. Un'area di alta pressione posizionata tra Spagna e Marocco spingerà dolcemente venti dal Mediterraneo Atlantico verso l'Italia. Questo si tradurrà principalmente in un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature intemporaneo aumento. Infine, la terza fase, che andrà dal 17 al 20 novembre, ci riporterà il maltempo, questa volta in direzione dei Balcani, con piogge variabili da leggere a moderate nel medio Adriatico e nel Sud.